Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Partiamo subito dai tre gravi episodi di violenza registrati ieri a Ferrara, simili tra loro e in orari diversi che però destano molta preoccupazione in città. Un bilancio di tre feriti ma che poteva essere ben più grave, gruppi di uomini armati che inseguono i fuggitivi in strada e nei locali pubblici pieni di gente. È stato un lunedì difficile per Ferrara sul fronte sicurezza, dove la polizia di Stato è intervenuta in tre episodi che destano preoccupazione. Il primo, poco dopo le 17.30, in via Olimpia Morata, a Ferrara una trasversale tra via Roboni e via Portacatena. In pieno giorno, un giovane straniero di 26 anni sarebbe stato inseguito in bicicletta da uomini di origine straniera. Una volta fermato, il 26enne sarebbe stato pestato con bastoni e armi da taglio e avrebbe riportato una gravissima ferita alla testa. Il pestaggio violento sarebbe stato bloccato da un passante di origine straniera, ferito anche lui ma in maniera lieve durante la colluttazione. Gli aggressori si sarebbero dileguati poi con l'arrivo delle volanti della polizia di Stato e il 26enne è stato portato all'ospedale Sant'Anna. Le foto le ha scattate il segretario comunale della Lega di Ferrara, Nicola Lodi, intervenuto sui social network documentando l'accaduto, su cui poi ha espresso forte preoccupazione riguardo alla situazione sicurezza in città. Il secondo episodio, in ordine cronologico, lunedì sera. Alle ore 22 in Corso Giovecca un uomo sarebbe stato aggredito, probabilmente da un gruppo di persone, ma la dinamica e soprattutto le motivazioni sono ancora tutte da chiarire. Sta di fatto che un cittadino straniero, ferito da un'arma da taglio alla schiena, è stato trasportato all'ospedale di Cona. Pochi minuti dopo, verso le 22.30 in Via Bologna, il terzo episodio di violenza in un giorno. Un cittadino extracomunitario si sarebbe rifugiato nel Caffè Vienna inseguito da una decina di uomini di origine straniera armati di coltelli, macette e bastoni. La stampa locale riporta la testimonianza dei presenti al bar che avrebbero intravisto anche un uomo con una pistola. Attoniti i baristi e i clienti che hanno vissuto momenti di paura, ma l'arrivo della polizia di Stato avrebbe fatto desistere gli inseguitori che hanno comunque seguito l'uomo fin dentro il locale per poi dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Tre episodi di violenza e inseguimenti in un giorno i quali si aggiungono a quelli con dinamiche simili registrati dalle forze dell'ordine anche pochi giorni fa e in giugno sempre a Ferrara. E su quanto è avvenuto ieri in città è intervenuto anche il ministro dell'interno, Matteo Salvini, con un post su Facebook. Secondo la sinistra siamo troppo duri, scrive Salvini. Per il ministro invece le leggi attuali non sarebbero abbastanza rigide, ma continua dal Viminale, con il decreto sicurezza cercheremo di rimediare. Il ministro si riferisce al decreto legge sulla sicurezza annunciato recentemente che entro la fine dell'estate dovrebbe essere presentato. Cambiamo però adesso argomento, rimaniamo in politica. È tornato d'attualità il tema degli agenti di polizia municipale a Ferrara armati di pistola. A sollevarlo è la coordinatrice provinciale di Forza Italia di Ferrara, appunto, Paola Peruffo. Pensare seriamente all'ipotesi di armare gli agenti della polizia municipale di Ferrara passando da un attento ascolto di vertici e sindacati del comando locale. È l'auspicio della coordinatrice provinciale di Forza Italia Ferrara Paola Peruffo. Negli anni il tessuto sociale è profondamente cambiato in peggio, sottolinea la coordinatrice forzista, che vuole riaprire il dibattito. Ricordiamo che in alcuni comuni della provincia estense, a Comacchio e nell'Alto Ferrarese, i vigili sono armati. Per Peruffo, il possesso o meno della pistola di ordinanza non è l'unico elemento in termini di dotazioni di servizio degli agenti della municipale. La coordinatrice poi punta il dito contro l'amministrazione targata Partito Democratico, che farebbe ostracismo all'eventuale introduzione delle armi. Il tema non è da prendere alla leggera, conclude Peruffo, ma gli stessi vigili lamentano il fatto che la dotazione di un'arma, sia essa una pistola o un taser, ovviamente a seguito del periodo di sperimentazione, possa almeno essere valutata in modo serio e approfondito. Al via dalla prossima settimana, il bando della regione Emilia-Romagna dà 600 mila euro a sostegno dell'editoria locale. Sentiamo. Un sostegno concreto all'editoria emiliano-romagnola, per garantire un'informazione plurale e scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale. Questo è l'obiettivo del bando della regione Emilia-Romagna, 600 mila euro messi a disposizione per l'assunzione di personale giornalistico iscritto all'albo. A spiegare i contenuti del bando, il consigliere regionale del Partito Democratico, il ferrarese Paolo Calvano, vogliamo salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare il precariato del lavoro giornalistico, spiega Calvano. Il bando, a cui le imprese potranno candidarsi entro il 14 settembre, prevede contributi a fronte di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dopo la presentazione della domanda. Si tratta di contributi a fondo perduto, fino al 50% della retribuzione annua lorda per ogni assunzione. La montare massimo di contributo concesso a ciascuna impresa sarà di 50 mila euro. La regione poi vaglierà i singoli progetti e si impegnerà a concedere i contributi entro il prossimo mese di novembre. Andiamo in regione perché la Giunta dell'Emilia Romagna ha stanziato 2 milioni di euro per la riqualificazione del pronto soccorso dell'ospedale del Delta. Gli interventi di ristrutturazione che interesseranno i 900 metri quadrati di superficie del pronto soccorso prevedono anche la realizzazione di percorsi distinti dei pazienti in base al codice di gravità. Il pronto soccorso dell'ospedale del Delta ha un ruolo rilevante per la gestione dell'urgenza e dell'emergenza nel territorio del distretto sud-est per la popolazione residente ma anche nel periodo estivo tipo questo per i turisti dell'ID di Comacchio. Infatti in estate e soprattutto nel mese di agosto gli accessi al pronto soccorso aumentano moltissimo fino a punte di mille pazienti in più nell'arco del mese portando gli accessi annuali a poco meno di 30.000 persone. E adesso rimaniamo sempre in Regione perché, non specifico anche Ferrara perché al via due nuovi percorsi per la fusione tra comuni stiamo parlando di Fiscaglio Stellato e di Goro e di Mesola. Partono in Regione due nuovi percorsi per la fusione tra comuni della provincia di Ferrara. La Giunta regionale ha approvato infatti due progetti di legge che riguardano la fusione tra i comuni di Fiscaglia con Ostellato e di Goro con Mesola un percorso che, se darà esito positivo potrebbe far prendere il via la fusione il prossimo 1 febbraio 2019. Nel comune di Fiscaglia, all'inizio di gennaio 2017 erano presenti 9.018 abitanti su una superficie di 116.018 km2 mentre nel comune di Ostellato, alla stessa data gli abitanti erano 6.130 su una superficie di 173,34 km2 Il nuovo comune potrebbe avere quindi una superficie di 289,7 km2 e 15.148 abitanti Sarà necessario, però, per il nuovo ente scegliere a fusione avvenuta a quale delle unioni aderire. Il comune di Fiscaglia, infatti, è ricompreso nell'ambito territoriale bassa ferrarese appartiene all'unione di comuni Delta del Po mentre il comune di Ostellato è invece ricompreso nell'ambito territoriale argente Ostellato Porto Maggiore e appartiene all'unione Valli e Delizie Avanti tutta anche per la fusione tra i comuni di Goro e Mesola che, oltre ad essere confinanti sono ricompresi nel distretto sociosanitario di Ferrara Sud-Est di cui è parte l'ambito bassa ferrarese Entrambi i comuni fanno parte dell'Unione Delta del Po, costituita nel 2013 insieme a Codi Goro, Lago Santo e Fiscaglia I due comuni hanno una superficie complessiva di 114 km2 per un totale di 10.618 abitanti Nello specifico, il 1 gennaio 2017 Mesola contava 6.860 abitanti e Goro 3.758 E cambiamo argomento è di oggi l'annuncio da parte del neoministro dei beni culturali nel corso della sua visita alla Biblioteca Nazionale di Napoli che l'ingresso gratuito ai musei la prima domenica del mese finirà con la fine dell'estate Sentiamo Dopo il passaggio della delega per il turismo dal Ministero per i beni culturali abbinamento voluto dall'ex ministro Dario Franceschini al Ministero delle politiche agricole abbinamento voluto dal governo Lega Movimento 5 Stelle caldeggiato dalla Lega in particolare dal ministro Centinaio oggi il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli annuncia di voler smantellare un altro tassello del progetto culturale varato da Franceschini per l'Italia e di oggi infatti l'annuncio da parte del neoministro dei beni culturali nel corso della sua visita alla Biblioteca Nazionale di Napoli che le domeniche gratis al museo finiranno con la fine dell'estate Secondo l'attuale ministro dei beni culturali l'ingresso gratuito ai musei la prima domenica del mese ha funzionato come lancio pubblicitario Possono andare bene se i direttori lavoreranno dice il ministro nei periodi più basso a flusso turistico ma nei mesi del turismo estivo le domeniche gratuite non fanno un gran bene all'immagine dell'Italia perché, a suo dire le migliaia di turisti stranieri che arrivano per visitare i nostri musei pensano che gli italiani siano pazzi a farli entrare gratis Bonisoli ha anche sottolineato che se uno pensa di pagare una cosa e improvvisamente questa diventa gratis sembra un po' una fregatura quindi meglio ripensarci L'iniziativa, lo ricordiamo varata dal ministro Franceschini e in vigore dal 1 luglio 2014 ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali L'ingresso gratuito alla prima domenica del mese è interessato in questi anni oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia che hanno accolto liberamente cittadini e turisti per una giornata al mese per favorire la scoperta del patrimonio culturale nazionale immediata dunque la reazione dell'ex ministro Franceschini che in un posto ha chiesto Bonisoli perché smettere quindi aggiungendo che le cose giuste che funzionano non hanno colore politico ha esaltato Bonisoli a non far pagare un desiderio di discontinuità politica alla cultura e agli italiani Economia adesso perché c'è una battuta d'arresto per il mercato del lavoro a giugno Secondo i dati diffusi dall'Istat il tasso di disoccupazione cioè il numero di persone che cercano un impiego sul totale della forza del lavoro è aumentato di due decimi di punto salendo al 10,9% il numero dei disoccupati risulta così pari a 2 milioni e 866 mila L'Istat segnala a giugno è una crescita della disoccupazione che riguarda uomini e donne e tutte le classi di età a fronte di una diminuzione congiunturale dell'occupazione che coinvolge soprattutto gli uomini meno 42 mila occupate le persone di 35 anni o più o meno 56 mila crescono i dipendenti a termine e diminuiscono i dipendenti a tempo indeterminato e in misura più contenuta anche i lavoratori indipendenti mentre il tasso di disoccupazione sale al 10,9% un aumento di due decimi di punto percentuale su base mensile e quello giovanile si attesta al 32,6% aumentano le persone in cerca di occupazione intanto secondo l'Istat calano gli inattivi tra i 15 e 64 anni con una flessione che riguarda principalmente le donne e si distribuisce tra i 15 e i 49 anni il tasso di inattività scende complessivamente al 33,9% nonostante la flessione registrata su base mensile nel periodo aprile-giugno 2018 si stima invece una consistente crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente l'aumento interessa entrambe le componenti di genere coinvolge le persone di 25 anni o più e tra queste principalmente gli ulteri 50 anni crescono nel trimestre i lavoratori a termine e gli indipendenti mentre restano sostanzialmente stabili i dipendenti permanenti anche su base annua si conferma la crescita occupazionale con un aumento che riguarda sia uomini che donne e si concentra tra i lavoratori a termine in live ripresa anche gli indipendenti crescono soprattutto gli occupati ulti 55 anni mentre calano gli occupati tra i 35 e i 49 anni L'azione adesso perché le stime preliminari nel mese di luglio in queste stime appunto l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'1,5% su base annua e quanto comunica oggi l'Istat diffondendo i dati provvisori dei prezzi al consumo di luglio sempre dall'Istat arrivano oggi i dati positivi per il prodotto interno lordo che nel secondo trimestre del 2018 risulti in aumento dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% in termini tendenziali il secondo trimestre del 2018 ha avuto due giornate lavorativi in meno rispetto al trimestre precedente ma una giornata lavorativa in più rispetto al secondo trimestre del 2017 la variazione congiunturale deriva da una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura silvicoltura e pesca a fronte di un aumento sia nel comparto dell'industria che in quello dei servizi migliora la domanda interna dei consumi mentre diminuisce la domanda estera aumentano a luglio i prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi dello 0,3% su base mensile e dell'1,5% su base annua l'ulteriore accelerazione dell'inflazione si deve prevalentemente all'aumento dei prezzi dei beni energetici regolamentati solo parzialmente bilanciata dal rallentamento della crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti l'aumento congiunturale dell'indice generale dei prezzi al consumo si deve per lo più dunque ai rialzi dei prezzi dei beni energetici regolamentati più 5,9% e in misura minore dei servizi ricreativi culturali e per la cura della persona solo in parte bilanciati dal calo dei prezzi dei beni alimentari non lavorati continuano le tensioni sui prezzi dei prodotti di largo consumo i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa della persona da più 2,2% di giugno a più 2,3% e quelli ad alta frequenza d'acquisto che da 2,7% crescono a 2,8% su base annua sul litorale perché è scattato ieri il fermo pesca per le barche dell'Emilia Romagna obiettivo favorire il ripopolamento del mare e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca intanto in Emilia Romagna le imprese da pesca in quasi 10 anni sono calate del 22% fermi per 42 giorni da oggi fino al 9 settembre da Trieste ad Ancona scatta da queste ore nell'alto Adriatico l'obbligo di interruzione temporanea dell'attività di pesca uno stop che è come obiettivo quello di favorire il ripopolamento del mare e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca in un paese come l'Italia che importa più di due pesci su tre nei territori interessati dal fermo pesca aumenta il rischio di ritrovarsi nel piatto interviene col diretti impresa pesca Emilia Romagna un prodotto straniero congelato invece di quello fresco made in Italy proveniente dalle zone dove non è in atto il fermo di pesca oppure pescato proveniente dall'attività della piccola pesca locale o da allevamenti di mitili o vongole il consiglio continua col diretti è quello di rivolgersi direttamente al pescatore non interessato dal fermo altrimenti se l'attività è commerciale si può verificare sul bancone l'etichetta che per legge deve prevedere l'area di pesca GSA che per l'Adriatico settentrionale corrisponde al numero 17 nel periodo di fermo pesca in questa zona per mangiare pesci italiano le provenienze da preferire sono quelle della GSA 9 il Mar Ligure terreno 10 terreno centrale meridionale l'11 Cimare di Sardegna 16 coste meridionale della Sicilia 18 Adriatico meridionale 19 Ioni occidentale oltre che all'Attigue 7 Golfo del Leon 8 Corsica 15 Malta col diretti interpesca più volte negli anni chiesto una radicale modifica di questo strumento di gestione che non risponde più da tempo alle esigenze della sostenibilità delle principali specie target della pesca nazionale in Emilia Romagna ricorda col diretti impresa pesca si è verificato anche un calo delle imprese da pesca e in quasi 10 anni hanno chiuso più di un'impresa su 5 meno 22% passando dalle 778 del 2009 alle 600 attuali l'auspicio è che dal 2019 si possa mettere in campo un nuovo sistema che tenga realmente conto delle esigenze di riproduzione delle specie e delle esigenze economiche delle marinerie ma intanto conclude col diretti impresa pesca vanno risolti problemi relativi al pagamento dei fermi progressivi ed evitare incertezze sul garantire il premio alle imprese relativamente all'anno 2018 passiamo allo sport in particolare alla spalla il calcio mercato è al centro dei pensieri della società secondo il patron Colombarini sarebbero due le pedine mancanti alla squadra di semplici ma sentiamo la sua intervista rilasciata ad Alessandro Sovrani dopo l'amichevole di sabato scorso contro la Lazio buona anche la prestazione di Schiatarella anche lui intervistato valuteremo insieme cosa possiamo fare per ancora per migliorare questa rosa però dobbiamo sempre tenere d'occhio anche il budget e in questo momento avendo anche qualche cessione ancora da fare secondo me è grassi un po' lontano però il mercato è ancora lungo non abbiamo fretta sappiamo che un paio di giocatori dobbiamo inserirli faremo sceglieremo i giocatori giusti al momento giusto stipato anche qui ad Oronzo il settore riservato ai tifosi della Spal sì sì i tifosi anche oggi non hanno fatto mancare il loro calore stipato e poi molto molto rumorosi si sono sentiti fa piacere che ci sia tutto questo entusiasmo lo vediamo anche da come sta andando la campagna abbonamenti loro ci sono sono pronti ce l'hanno dimostrato e noi dobbiamo fare altrettanto quindi possiamo stare tranquilli guardare con una certa fiducia al futuro in considerazione poi che arriveranno anche gli innesti ma guarda io già penso una cosa che già riconfermando il mister e tenendo una grande parte della squadra dell'anno scorso partiamo con un vantaggio i nuovi sono dei ragazzi eccezionali che si stanno inserendo con molta voglia di imparare subito i meccanismi che chiede il mister quindi siamo sulla buona strada per partire e divertirci sono gli spalti hanno vinto i nostri tifosi erano i 1500 uno più uno meno tantissimi noi dobbiamo solo ringraziarli perché il loro sostegno non lo fanno mai mancare come oggi ma come è sempre stato da quando sono arrivato a Ferrara ho sempre visto i nostri tifosi carichi a mille il tuo punto di vista sul calendario il calendario è molto diverso dall'anno scorso però devo dire dal nostro punto di vista secondo me quest'anno non dobbiamo più partire con il fatto di doversi fare esperienza l'esperienza l'abbiamo fatta l'anno scorso quest'anno abbiamo un campionato che ci dà la possibilità di fare un po' più di punti nella prima fase e però dobbiamo anche farli perché sennò può diventare difficile recuperare dopo bisogna partire concentrati dal primissimo minuto già dalle prime partite perché quelle sono partite alla nostra portata e dobbiamo arrivarci in forma bene questa era l'ultima intervista di oggi vi do appuntamento alla prossima edizione a tutti gli aggiornamenti sui social network e sul sito telestense.it grazie e buona serata a tutti gli aggiornamenti